Quest'oggi in visita al distretto della Pesca e Crescita Blu, due delegazioni importanti libiche, una di Tripoli e una di Tobruk, un fatto davvero notevole. Ma questo è il miracolo della Sicilia, cioè la Sicilia che sa unire popoli, gente, che ha anche difficoltà a incontrarsi. Qui tutto avviene in modo naturale e noi attraverso i nostri amici libici di Tripoli e di Tobruk siamo molto onorati di avere qui il più alto rappresentante della Pesca in Libia, il General Manager della Authority della Pesca in Libia e il Comandante del Porto di Tobruk. Loro sono veramente le massime autorità del mare in Libia e il fatto che vogliano dialogare con la sponda più vicina e più prossima, che la Sicilia è un risultato importante per noi, è una speranza di dialogo, di pace e di cooperazione. Il mare, la pesca possono dare un forte contributo a rinsaldare rapporti fra di noi e fra di loro. e fra di noi e loro. Questo è molto bello e importante. Speriamo di renderlo molto efficace prestissimo. La nostra visita è soprattutto per avvicinarci al popolo italiano e in particolar modo alla Sicilia. Sono stato delegato dal sindaco di Tobruk e degli altri consiglieri e con la presenza del Presidente vorremmo avviare dei progetti di cooperazione che siano sia con Tobruk sia con la città di Tripoli, che possano essere nel settore della pesca o in qualsiasi altro settore, in modo tale di rafforzare questa cooperazione tra entrambi i popoli. e soprattutto superare quella idea con questa cooperazione che colui o coloro che vengono in Libia per investire, per portare dei progetti, che ci sia soprattutto la massima collaborazione e che non ci sia quell'idea che chi viene deve trarne soltanto un unico vantaggio. Invece con la cooperazione siamo sicuri che possono trarre vantaggio entrambi i popoli, entrambe le parti. Grazie dell'accoglienza ringraziamo il Dottor Tumbiolo per averci riunito in queste due giornate e speriamo che ci siano veramente delle ottime possibilità per un futuro migliore. Noi ovviamente ringraziamo il Dottor Tumbiolo per questa visita e per questa accoglienza e la mia presenza qui a Mazzara ha seguito questo invito ovviamente per lavorare su un accordo di cooperazione tra la Libia e l'Italia e in particolar modo con la Sicilia e soprattutto per avvicinare i punti di vista per quanto riguarda la pesca marittima in generale e noi speriamo in un indomani migliore tra la Libia e l'Italia e in particolar modo con la Sicilia e sono assolutamente contento e felice di aver conosciuto il Dottor Tumbiolo che porta la bandiera della pace in assoluto e l'accordo tra la Libia e l'Italia e in particolar modo con la Sicilia tramite il Dottor Tumbiolo sarà soprattutto, avrà delle basi su quelle che sono i benefici su dei principi di legge nel rispetto l'uno dell'altro e nei prossimi giorni ci sarà sicuramente molto da fare e molto da lavorare ancora e come ha detto il mio collega ovviamente siamo tutti quanti qua per cercare di scambiarci tutte le conoscenze e tutte le possibilità per uno scambio ottimo e le relazioni tra la Libia e l'Italia sono delle relazioni storiche e ribadisco la mia felicità nell'aver conosciuto e incontrato il Dottor Tumbiolo Grazie